Simone ha messo un grande vuoto tra sé e il terreno su cui è precipitato, 11 piani, se ti butti dall'undicesimo piano vuoi morire davvero, se ti butti dal secondo, dal terzo magari c'è dentro di te una remota aspettativa di salvezza. Incontriamo qui alla Gay Street anche Mara Venier. Sono qua prima di tutto come cittadina, non come rappresentante del mondo dello spettacolo, come persona che ha una coscienza, di solito non è che partecipo mai a manifestazioni forse più pubblicizzate, diciamo così, stasera avevo voglia di essere qua, tutto qua, come persona, come cittadina. Il mondo dello spettacolo sinceramente c'entra molto poco, anche se io domenica ho un po' rivisto, ho un po' stravolto la puntata di Domenica Inge, ci sarà una pagina dedicata proprio a Simone. Sulla Rai, fino a un po' di anni fa questi argomenti erano un po' fuori dai paninsesti, ora sta un po' cambiando anche questo. Beh, per fortuna. Grazie a Mara Venier.